Ciao a tutti, sono Luca Maria Lucini del team Flycycling Team CD, quest'anno per me la terza partecipazione al Giro E, dato che la prima volta che sono venuto qui era il 2018, dopo ho fatto anche la seconda edizione del 2019 e quest'anno, nonostante il Covid, si è riusciti a essere qui presenti. Il nostro main sponsor è il Centro Diagnostico Italiano di Milano e grazie a loro appunto siamo presenti a questo Giro, non solo per un discorso esclusivamente sportivo, ma per un discorso legato alla prevenzione e a tutto quello che ruota intorno, quindi all'interno del nostro team giornalmente avremo degli ospiti che hanno il diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2, perché il nostro focus, la nostra mission è dimostrare che nonostante questa patologia si può fare attività fisica e sport, sia ad altri livelli che a livelli più tranquilli. L'evento merita un sacco, sono straorgoglioso di essere qui con tutti i ragazzi che poi il mio team mi ha aiutato ad essere presente e per quanto riguarda il discorso classifica, anche se non era una nostra priorità, sta andando tutta la grande, infatti abbiamo adesso conquistato la maglietta azzurra che riguarda la classifica dei traguardi volanti e quindi adesso la nostra idea è di cercare di mantenerla al più lungo possibile, senza scordarci il messaggio per cui siamo appunto venuti qui al Giro E. E vi dico, se avete la possibilità, se non è quest'anno, dall'anno prossimo venite, divertitevi e partecipate a questo evento perché è una gran figata. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!